Cosa state facendo? Sto verniciando e Giovanna mi aiuta Brava Giovanna, brava Firnopus Saratoga Guardate noi, neanche voglia di annunciare la pinta, la sega che stiamo per intervistare Vi chiamo subito la linea dell'intro, via Buongiorno a tutti, siamo qua con Jamal Mesbah Jamal, sei contento della vittoria del Milan quest'oggi? Sì, è un po' contento per la vittoria del Milan, però è un po' amaro per il Lecce Soprattutto il risultato che hanno fatto in Siena Che adesso sono a 6 punti, però lo credo a questo Lecce, a questo gruppo Non ce ne frega un cazzo del tuo dispiacere a Mesbah Secondo te, quali sono i giocatori pronti per il stato di qualità nel Lecce? Di quadrato, con anche di Michele, del Vecchio, questi giocatori Tomovic Parlaci un po' del tuo esordio di Marta in Champions contro l'Asternal Sì, sì, è andato un po' veloce Io sono arrivato qua, non pensavo a giocare così Dopo il mister mi dà fiducia Sì, dopo l'esordio di Marta in Champions È stato un po' difficile, soprattutto il primo tempo Abbiamo rischiato un po' Però tutto bene, adesso devo continuare a dare il massimo Adesso l'obiettivo è venire il scudetto Adesso un'ultima cosa, cantaci una canzone Ti amo Ma che cazzo Scusa, colpa mia Figlio di bocce Adesso un'ultima cosa, cantaci una canzone Adesso un'ultima cosa, cantaci una canzone Scusa, colpa mia Alla-in-Moi Scusa Alla-in-Moi Paraaaa Pack